Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Madre di Dio e Madre nostra, Maria, che avete scelto il Monte Santo di Europa per collocarvi la vostra prodigiosa immagine e per mezzo di essa, da tanti secoli, spargete le ricchezze della Divina Misericordia, soprattutto di quelli che vi invocano. Accogliete benigna le preghiere dei vostri figli gementi fra i pericoli e i mali di questa vita e continuate i prodigi della vostra potenza a favore di noi e di tutto il popolo cristiano. Per voi, Maria, ora, come sempre, trionfi e si dilati la Chiesa di Dio. Si confortino i giusti nel Divino Servizio, si ravveggano i peccatori e quanti sono afflitti o infermi e ritrovino consolazione e salute. E noi non cesseremo già mai di amarvi, invocarvi e benedirvi, o Regina potente e pietosa del Sacro Monte di Europa. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna di Europa, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.